Ciao tunisiani e benvenuti in questo nuovo video di strega comanda color e partiamo benissimo perché purtroppo è successo un inconveniente Esatto I miei amici mi guardano in posti strani veramente fate schifo Allora Si sono abbassati eh Si tua sorella si è abbassata e non dico come E allora però praticamente oggi facciamo il video di strega comanda color e Esatto Perché appunto vedo che vi piace molto e miriamo immediatamente Angelo perché vedo che è molto egocentrico Si esatto è vero Si 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 ignoriamo Angelo No 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 Egocentrico ignoriamolo immediatamente tanto fai schifo Ti dato dell'egocentrico Assolutamente si allora farò io la strega in questo momento precisamente secondo Va bene Quindi ah Scusate ho avuto un discusso Mi sono fatto male al dito non pensate Facelo col suono Poi stavo guardando di là perché ho visto strizza la pizza tunisiani porca miseria dovete stare attenti tutti quanti Stizza la pizza Lui è sempre nei paraggi Stai zitto Stupido Stupido Eh non potete capire Un Su personaggio immaginario Allora tua sorella immaginaria Ok Che parla sempre con Eh Ok Perfetto Allora quindi Chi è che fa eco prima di tutto Non mi importa però Mi raccomando chi fa eco è colpa sua Allora Strega comanda color Azzurro Forza forza Ho creature magiche Acqua Azzurro Ma qual è No azzurro è quello ovviamente Azzurro No no L'acqua è blu Antonix è ultimo Ok allora Antonix è l'ultimo Mi dispiace molto Antonix No Eh devi andare subito nella gatta buia profonda È sbagliato Nella gatta buia profonda Come vedete anche lui sta registrando Lui è un nuovo Un nuovo membro Che registra Il nostro nuovo amico Stai lì E C'è già anche Damo un gas Stupido Stupido È relegato nella prigione Stupido Stupido sasso Soverino No è triste No dai scherzo Allora chi caspita è che fa eco Chi è che fa eco Io non lo so Secondo me è fede Per forza Vabbè Ora non si sente più Però quando si alza la voce C'è un eco strano Allora Strega comanda color Marrone Marrone Che era c'è già Marrone Ok sì 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 Marrone Ma chi è Ma allora Mi sa che Gabri Gabri No Assolutamente Vai Mi sa che qua le cose si complicano Quale cose Eh Ci stiamo decimando Decimation Guardate qua che amori Vabbè Cosa E loro due nella gatta buia Chissà cosa faranno Cosa Guarda Oh Gabri Non slinguazzare Cosa No Perché Si sa bene Si sa bene Che loro Eh loro quando praticamente La notte viene La notte cala E entrano solo loro due nel mondo Si sa che loro due fanno Queste cose Proprio in questa prigione Si chiudono Ma anche su Discord eh Sì 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 Ma ma cosa Ci sono un sacco di stanze qua Cosa non è vero Mamma mia Che schifo Cioè nel senso L'amore è molto bello Quindi fatelo pure Ma cosa Allora Strega comanda color Rosso Forza Dove è il rosso Il fiore Il fiore Ok Angelo vai nella gatta buia Perché sei arrivato ultimo Duniziani Purtroppo Si vai vai immediatamente Cosa hai fatto Hai tolto un fiore No veramente Si ti disturba Ma perché lui E la sua indole da Stupido Per non dire Qualcos'altro No non è capito Disturba loro Non posso Ah Ma cosa Ma cosa Mi dispiace Ma allora Cosa sta dicendo Non si sente niente E questo è il punto Avvicinati magari Al microfono Angelo Forse potrebbe essere Una buona idea Eh beh Un pochino Forse si Un pochino Ti sei allontanato Allora Adesso rimangono Solo le due rivali Le due sfidanti Più sfidanzose Eh Che si Allora Allora Strega Comanda Color Arancione Ok ok Forza Guardate Come Come Cosa sta facendo No Non è tutto Ha vinto Ha vinto Fede Mi dispiace Molto chiara Purtroppo Allora Angelo Quelli Quelli Nella 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 Devono stare Zitti Che cosa Che cosa Non è chiaro Del Zitti Domanda Cos'è che Non è chiaro Cos'è che Credi Cos'è che Hai detto Io credo Che tu Ho sentito Una cosa Di questo tipo Magari Mi sono sbagliato Non lo so Ho sentito Io credo Che tu Qualcosa Quindi Vabbè Adesso Forza Chi è che Vuole fare Allora Chi è che Ha vinto Fede Quindi vai Fede Fai tu Io Ok Perfetto Allora Come al solito Strega Comanda colore Velocemente Pem pum pum Perfetto Comanda colore Rosa Rosa Da quella parte Da quella parte Tunisiani Vinceremo Cioè nel senso Sicuramente Non perdiamo Ok perfetto Antonix Poverina 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 È sempre l'ultimo Sì esatto Che tristezza È sempre l'ultimo Mi dispiace Però dai Antonix Vedrai che Prima o poi Vincerai anche tu E non essere triste Tanto poi arriva Gabri E sarai felice Vedrai Cosa Esatto Gabri Gabri devi perdere Esatto Gabri Devi perdere Prego a farlo da colore Arancione Arancione Da quella parte Non usate brutti schifosi Fate schifo Fate schifo No No fate schifo Ok brava Chiara Tanto ci deve comunque andare lei Oh Bene bene Vedete Vedete come brava Chiara Che non pensa a vincere Pensa a divertirsi Pensa Pensa al video A farlo venire bene Ok va bene Mamma mia Brava Chiara Prego a comanda colore Giallo Giallo E dove è giallo Dove è giallo Il fiore il fiore Ce ne sono tanti Oh no E questo non è giallo Tenis hai perso Tu hai perso Adesso sei Non vali più come strega Fai schifo Basta No Hai perso tu come strega Anche se non è possibile Basta No Allora Rifacciamo For Tu sei lenta Stai zitta Rifacciamo Allora Strega comanda colore blu Blu Ok da questa parte Oh meno male Almeno hai fatto Gabro No Gabri Perfetto Oh Gabri lo smonto Allora Però Chiamalo Chiamalo Gabri No però c'è un problema Sono pure io qua dentro Aiuto Mi dispiace molto Dovrete stare in silenzio Chiara tu dovrai assistere allo spettacolino Che schifo Corbelleria Allora Sì 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 dimmi Bianco E dov'è il bianco domanda Ah da quella parte Ah No Ho sbagliato Il lag Oh il lag Non capisco Il lag Gabri ha rotto una barriera Ho sbagliato Ho sbagliato Non volevo Allora Ho sbagliato Non volevo Non volevo Allora 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 Forse non avete capito bene la cosa del Chi è in prigione deve starsene Zitto Gabri ha rotto una barriera Non me ne frega niente Se io sono lontano E tu mi urli Gabri ha rotto una barriera E io sto facendo tutt'altro Mi spieghi cosa mi interessa Quando mi avvicino e vedo Poi puoi dirlo Ovviamente Chiara Non mi sembra una cosa complicata O no Adesso la prossima volta Fai così magari Eh Forse è una scelta Più giusta E Guardate sembra un demone comunque Un demone del male tipo Un panci Oh Non mi permetti di Di fare questa cosa orribile Cos'è stata questa Mi fa demoniaca Altro che Altro che Angelo Cioè Comunque vai Fai tu Fai tu Fai tu Ah ok 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 Ha vinto Angelo chiaramente Io sono molto sportivo E dico No però il lag Mi ha fatto perdere Quindi Ah si ok Strega comanda colore viola Viola E da questa parte Mi ricordavo io qualcosa Porca miseria Dunisa Popper Pum Perfetto Forza abbiamo vinto Chi è che è arrivato ultimo Non lo sa vero Strega comanda colore No Fermo un attimo Non hai capito Non hai capito Chi è arrivato ultimo Angelo Ah si Cosa Antonix Antonix Ok allora Aspetta un attimo Che lo rileghiamo Nella prigione oscura Di nuovo lui Antonix muovi ti ho visto Vabbè allora No facciamo Facciamo che stavolta Ci va Ci va Ci va Chi è che non c'è mai andato Fede Ah davvero Era chiara L'hai visto tu Allora Decido io Ci va Gabri No no Scherzo Scherzo Gabri ci va sempre Fede vai tu Forza Che schifo puntare Il dito La prima Forza Forza Entra qua dentro Nella gattabuia Olle Che bello Relegare le persone Nella gattabuia Devo dire che Strega comanda colore Celeste E qual è il celeste Questo qua Per forza Sì assoluta pentonzolo Antonix via Sì ma Antonix che cavolo fai Cioè dai Però almeno Almeno devo dire che Antonix non è arrivato per ultimo Ovviamente non parla Antonix Però non è arrivato nemmeno per ultimo Molto bravo Molto bravo Strega comanda colore Giallo Giallo E dov'è il giallo Dov'è il giallo E il fiore E il fiore del Li facciamo Vabbè diciamo che ho vinto io Come avete Ah giustamente È un round molto vincente Eh sì Dimmi dimmi Cos'è che si chiama Sua e ha perso Io Immediatamente in prigione Immediatamente in prigione Assolutamente Direi di sì E Comunque si era arancione Mi sa Vabbè A volte capi Strega comanda colore Grigio scuro È grigio scuro Da quella parte Molto bene Angelo Mi hai fatto vincere Perché Hai visto Hai visto Angelo È molto Proprio Dopo Vabbè Non ciò di perdere Sì Evita di fare versi Esatto Non ne ho idea Secondo me Lui parla A volte in una lingua Strana Duniziani Secondo me Anche lui è un demone State fermi Nella lingua angelitica Allora Comunque questi silenzio Non mi piacciono affatto No Cioè devo parlare Per tutto il video Devo parlare Per tutto il video Io oppure Potete Non ti preoccupare Però questo non vuol Terminare le corde vocali Mamma mia Esattamente Però questo non vuol dire Che dovete parlarvi Tutti addosso È È vero Sì Beh Questo Questa è una cosa Veramente difficile In effetti Allora Faccio di nuovo io La strega Perché Va bene Strega comanda color verde Ah Ah Hanno vinto tutti Sono come un Verecchino Che verecchino Strega comanda color rosso Rosso Sì Ok vediamo Vediamo un attimo Eh ok Gabri Gabbro Gabri Gabbro tantissimo Che dispiacere Tranquillo Adesso arriverà il tuo amore No 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 Il tuo amore Devi far eliminare Antonix No 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 Sì assolutamente Strega comanda color Azzurro Azzurro Dai 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 Forza forza Dai 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 Guardatelo Guardatelo come corre Per non essere scippato Che schifo Chiara dai Non è vero Non è vero È arrivato Ma chi è arrivato Sì 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 È arrivata Fede Anche a me è sembrato Di vedere Fede Quindi Prego prego Sembrato pure a me Eh Gabri e Fede No dai dai Tutte stai ship però Non vanno bene Cioè Sennò è tutto un casino Eh Unisiani Cos'è che è bello Cosa Non ho sentito Il sedere di Gabri No non sento manco io però Meglio Hai detto il sedere di Gabri In senso volgare Angelo No 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 Siamo su YouTube Io te lo ricordo Sai Sì tranquillo Ok Strega comanda color Scemitudine di Angelo Vedete Ok perfetto Avete vinto tutti Strega comanda color Arancione Via Adesso corro anch'io Mamma mia Il fuoco arancione Il fuoco arancione Sì 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 Adesso se la contenderanno Angelo mi dispiace sei l'ultimo Mi dispiace molto Forza Vai in gattabuia Adesso Se la contenderà Antonix e Chiachira Sarà il round finale Il round per cui si decretti Il round decisivo Scusa cosa sta facendo Quell'imbecile là Angelo Mi sa che C'ha le damigiane in casa Come al solito Vabbè A volte può capitare No Insomma Non è che non c'è da prendersela Facciamo finta che lui sia in gattabuia Anzi Sapete cosa Adesso Lo tipo qua Lo tipo qua Slash tp No mi sa che è proprio Mi sa che è proprio Crashato È crashato proprio Come avete potuto sentire Pure dalla signora Che parla Nei miei video La signora La doppiettrice Sì 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 Lei è la mia doppiettrice Qualcuno è crashato Sì 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 Allora Strega comanda color Eh Cosa ho detto Eh Questa è una brutta parola Mi dispiace molto Io sono su youtube Me lo devo ricordare Ricordatemelo anche voi Strega comanda color blu Ha vinto Antonix Ha vinto Antonix Non è giusto Non è giusto Yey Ha vinto la vittoria Nelle sue mani Perché lui è il campione Di questo round Guardate come è felice Perché lui voleva salvare Gabri Sì sì Ma cosa Hai visto Sì 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 Lui è la principessa Lui è il cavaliere E Gabri è la principessa Nella torre No Però Gabri non dice No vedi Gabri dice cosa Eh Hai visto hai visto Non dice no 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 Qua Gatto Cicova Fra Antonix E Gabri Vedi pure Fede Eh Eh beh beh Anche Fede è un po' gelosetta Eh perché si sa che Loro due Avranno un rapporto speciale Però Molto speciale Però sono amici Allora Allora Poi si sa che Fede è una strega Quindi secondo me Avrà pure i suoi stregoni No Ne avrà da una posizione Comunque mutati immediatamente Perché ho sentito qualcosa In sottofondo Ok Duniziani Dopo questo Questa cosa Perché ho cercato di coprire i rumori Dovete sapere questa cosa Che quando succedono questi rumori Io cerco di coprirli Tranquillo Nessun problema Cioè capisco La tua situazione Molto strana In cui sei Fede Direi che questo video È giunto al termine Quindi lasciate like Iscrivetevi al canale Commentate con fiore giallo Nei commenti E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao